Salute! Noni! Pijepää! Talubitti! Ja! 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 Jumala! 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 Sähaa! Jumala! 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 a 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 Siamo arrivati alla sottelù Saipo Haveli e Toni Tauvaviti. Siamo arrivati alle 25 kg. e 2,5 minuuttia e a questa è la tervelle il tervelle ammattilasottelu Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!